C'è preoccupazione da parte del Comitato Inquilini Erpe della provincia di Teramo, questo a causa di un probabile imminente cambio al vertice dell'Ater, circostanza che secondo il Comitato porterebbe a far slittare ancora di più l'imponente mole di lavoro per avviare finalmente gli interventi post-sisma nelle abitazioni. Situazione molto delicata visto che questi dovevano essere i mesi cruciali, sia per consegnare le chiavi degli appartamenti acquistati e messe a disposizione da parte della regione Abruzzo, ma anche per avviare in maniera definitiva i tanto attesi interventi di ripristino delle palazzine B, che permetterebbero di far entrare a due anni di distanza le persone all'interno delle proprie abitazioni. Si preoccupa perché, come l'abbiamo detto già qualche mese fa, semplicemente per il fatto non perché dobbiamo tutelare questo piuttosto quell'altro, ma solo perché, in questo caso, anche se ne arriva un altro altrettanto disponibile, come il dottor Salini, temiamo che si vada ancora a perdere altri due o tre mesi di tempo soltanto per poter visionare il lavoro svolto, eccetera, eccetera, e poi continuare su quello che, ovviamente, ospichiamo, è stato fatto fino ad ora. Però quindi non riusciamo a comprendere il vantaggio di questa operazione, però ovviamente non dipende da noi, quindi dobbiamo semplicemente esprimere la nostra preoccupazione con la speranza e l'auspicio, e ovviamente questa è una richiesta nostra, che non sia un presidente Ater, un commissario Ater, a tempo, diciamo, a tempo perso, ma ovviamente a tempo pieno, come lo è stato il dottor Salini fino ad oggi. Siccome una buona parte del lavoro è stata portata, anche se con tanto ritardo, ovviamente, c'è stato già un cambio al vertice dell'Ater, quindi non dimentichiamolo, e quindi praticamente adesso che ormai sembrava, alla vigilia, proprio di vedere qualche impalcatura, o qualche appalto già assegnato per cominciare a costruire, a ricostruire, vediamo questo nuovo, almeno, queste sono le voci che circolano, questo eventuale cambio ai vertici, che come tutti i campi ai vertici porteranno, si rischia che portino ritardi. Noi ci auguriamo che sia una persona altrettanto capace, altrettanto brava, e soprattutto altrettanto disponibile.